salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale la recensione di loro lampade da piscina a batteria o ad alimentazione sono lampade della limle e ci permettono di andare ad illuminare l'interno della nostra piscina che siano piscine interrate che siano piscine fuori terra come queste di qualsiasi dimensione infatti vedete c'è la possibilità di scegliere qualsiasi tipo di lampade voi vogliate in base a quello che il vostro utilizzo la vostra dimensione di piscina è quello che volete avere a livello di effetto visivo loro ovviamente sono lampade a led è totalmente impermeabili e ci danno un'atmosfera incredibile all'interno della nostra piscina sì perché ovviamente essendo a led hanno una variabilità di colori incredibili possono sfumare possono andare a ritmo di musica cioè veramente sono pazzesche abbiamo due tipologie come vi dicevo e come state vedendo dalla confezione perché abbiamo una tipologia a batteria dove è possibile ovviamente utilizzare un suo telecomandino come vedremo tra poco nell'unboxing per andare a variare i colori creare l'effetto sfumatura e tante possibilità di utilizzo queste lampade a batteria sono 4 watt l'una in questa confezione ne trovate due ma è possibile anche avere la confezione con una sola lampada in base appunto all'utilizzo e alla quantità di luce che avete la necessità di avere all'interno della vostra piscina è una cosa interessante anche il fatto che ovviamente la ricaricate con una presa type si un alimentatore qualsiasi la ricaricate e loro hanno la possibilità di funzionare con una ricarica addirittura 36 40 ore la possibilità di colori ricreabili e fino a 16 colori e tanta tanta roba davvero per quanto riguarda l'utilizzo l'installazione di entrambi questi prodotti è semplicissima perché lo si fa a livello magnetico con una piastra magnetica che ci viene data in dotazione come vedremo tra poco o se invece avete una piscina interrata possibilità di andare a fissare il supporto magnetico con un mastice che ci viene dato sempre in dotazione quindi dipende dall'utilizzo e dal piscina che avete se avete una piscina tipo questa basta andare ad appoggiare la piastra magnetica stessa cosa succede da questa parte con queste lampade molto più performanti molto più potenti perché ovviamente loro non sono a batteria abbiamo delle lampade che sono 20 watt l'una mentre qua sono 4 watt per lampada e questa possibilità è ovviamente per avere molta più luce e se abbiamo la possibilità anche di avere la corrente disponibile vicino a noi per questa piscina probabilmente queste due lampade sono fin troppo potenti perché ragazzi 20 watt l'una vi assicuro che fanno davvero tanta tanta luce come vi farò vedere poi dopo e una delle differenze principali rispetto a questo oltre ad avere l'alimentazione a corrente mentre quale abbiamo a batteria in questa versione abbiamo l'utilizzo tramite l'applicazione dello smartphone quindi non abbiamo il suo telecomandino per andare a modificare i colori e le funzioni ma lo faremo attraverso un'app dedicata che è disponibile sia per us che per android verranno connesse bluetooth e ovviamente a quel punto potremo variare nelle opzioni ma poi di questo vi parlerò fra poco entrambe queste lampade della Limele le trovate disponibili su Amazon vi lascio qua sotto i link in descrizione anche di questa versione c'è solo con una lampada mentre in questo caso ne abbiamo due quindi anche questo in base alle dimensioni della piscina dell'utilizzo che ne dovete fare potete scegliere se acquistare la versione con una lampada o due lampade quindi in base ai watt che volete a livello di illuminazione quindi detto tutto questo facciamo un veloce unboxing per vedere cosa troviamo nella confezione iniziamo da loro le Limele a batteria e poi passiamo a queste che sono le Limele che dobbiamo collegare alla presa di corrente quindi iniziamo l'unboxing troviamo due cavetti per la ricarica delle batterie usb usb type c poi troviamo due telecomandini identici che ci permettono di andare a modificare tutte le funzioni delle lampade ma basta usarne uno di telecomando per comandare comunque entrambe le lampade poi troviamo il manuale di istruzioni dove abbiamo disponibile anche la lingua italiana poi abbiamo due tubettini di mastice per andare a fissare le piastre magnetiche nel caso avessimo una piscina interrata mentre la piscina è fuori terra questo mastice non vi servirà a nulla ed infine troviamo le due lampade a led a batterie con le piastre magnetiche che adesso vi faccio vedere che si trovano qua sotto alla lampada come vedete si attaccano magneticamente e sono queste quelle che se abbiamo la piscina interrata andranno fissate alla parete perché comunque non si possono mettere all'esterno della piscina se è interrata mentre nella versione con la presa di corrente abbiamo il manuale di istruzioni sempre che lui con la lingua italiana abbiamo le due piastre magnetiche identiche alla versione a batteria abbiamo anche qui due tubetti di mastice nel caso avessimo la piscina interrata per andare a fissare i due dischetti magnetici mentre se avete la piscina fuori terra come quella che ho io questi due tubetti non vi serviranno ed infine troviamo loro le due lampade a led da 20 watt l'una con 8 metri di cavo con il suo alimentatore da 12 volte che contiene all'interno anche il modulo bluetooth perché queste lampade andranno comandate tramite l'applicazione da installare nello smartphone disponibile sia per ios che per android ed ecco qua le prime due lampade che andremo a vedere che sono le due lampade a batterie della line come vi ho detto all'inizio video per ricaricarle basterà andare ad aprire questo piccolo sportellino abbiamo sotto una presa type c per la ricarica qua dietro abbiamo poi anche il tasto d'accensione basterà tenerlo premuto qualche secondo per andare ad accendere le lampade a questo punto vedete che sono accese se io ci clicco sopra vado anche a cambiare il colore ma poi questo lo potremmo fare anche tramite il suo piccolo telecomando che avete visto che trovate all'interno della confezione anzi ne trovate due in questa versione dove abbiamo due lampade e due telecomandi ma un telecomando solo le fa comunque funzionare tutte e due non è che dovete utilizzare i due telecomandi poi come avete visto nell'unboxing abbiamo queste piastre che andranno a fare da supporto magnetico alle lampade infatti loro andranno fissate all'interno della piscina mentre questa piastra magnetica andrà appoggiata all'esterno e farà ovviamente da magnete se invece avete una piscina con un interno quindi questo non lo potete mettere all'esterno dovrete andare a mettere questo utilizzando il mastice che avete visto che trovate in dotazione ma questo solo nel caso abbiate è una piscina interrata dove non potete mettere la parte magnetica all'esterno e poi abbiamo come abbiamo già detto prima il piccolo telecomando dove ne avete come ho detto due in dotazione ma ne basta uno per farle funzionare una volta accese le lampade potremo andare a modificare qualsiasi effetto andare a modificare qualsiasi colore tutto tramite il telecomando una volta che loro sono comunque immerse nell'acqua il telecomando prende tranquillamente senza nessunissimo problema c'è anche la possibilità di andare ad attivare un timer di spegnimento quindi andando di impostare due ore loro dopo due ore si spegneranno andando impostare quattro ore si spegneranno dopo quattro ore andando impostare sei ore dopo sei ore loro si andranno a spegnere quindi detto questo adesso è arrivato il momento di andare ad installarle basta andare ad immergere la lampada che come abbiamo detto è totalmente impermeabile e all'esterno andare ad appoggiare quello che è la piastra magnetica quindi una volta fatto questo procedimento avete già installato quello che è la prima lampada stessa cosa andiamo a fare con l'altra lampada andiamo a staccare il supporto magnetico andiamo ad immergere la nostra lampada e andiamo ad appoggiare quello che è la piastra magnetica e questo ragazzi è finito il vostro lavoro di installazione per queste lampade a batteria della line è finito così praticamente ci vuole neanche un minuto e l'avete installate tutte e due adesso andremo ad installare invece le altre dall'altra parte della piscina per poi avere un confronto anche di luce così uno si rende conto della quantità di luce che fa ovviamente ogni tipo di lampada in base all'utilizzo in base alla dimensione della piscina può decidere cosa acquistare soprattutto se vuole avere un'alimentazione con la presa di corrente o se invece vuole avere un'alimentazione a batteria quindi adesso recuperiamo le lampade con l'alimentazione a corrente e vediamo come sono e come installarle diamo ed ecco qua le lampade della line ad alimentazione loro sono 20 watt l'una confronto alle altre che sono 4 watt a lampada quindi l'abbiamo un totale di 8 watt se ne abbiamo due qua abbiamo un totale di 40 watt il concetto di fissaggio è lo stesso manca ovviamente quello che è il tasto d'accensione il tasto di ricarica perché loro sono alimentate con la presa di corrente ma il concetto di fissaggio è lo stesso con piastra magnetica con la piscina esterna senza nessuna diciamo fissaggio di nessuna parte mentre se abbiamo una piscina interrata dovremo anche in questo caso usare il mastice per fissare quello che è la piastra magnetica poi loro ovviamente si fisseranno la piastra magnetica sempre in modalità magnetica quindi a livello di luci abbiamo come abbiamo detto la funzione bluetooth perché loro non hanno il telecomando ma hanno un'applicazione come state vedendo in questo momento in sovraimpressione l'applicazione come abbiamo detto disponibile per us per android va installata in maniera super semplice basta scanalizzare il qr code che troviamo nel manuale di istruzioni come avete visto anche in lingua italiana dopodiché loro si connetteranno bluetooth all'applicazione e funzionerà tutto in maniera perfetta potremmo andare a modificare quello che sono le luci modificare gli effetti modificare la quantità di luminosità quindi potremmo abbassare la luminosità se fanno troppa luce per i nostri gusti potremmo andare ad attivare anche un timer d'accensione e spegnimento quindi loro in determinati giorni alla settimana o tutti i giorni alla settimana una determinata ora si accenderanno e poi a una determinata ora preimpostata nell'applicazione si andranno a spegnere e poi c'è la possibilità ovviamente di attivare un microfono quindi loro utilizzando il microfono del telefono funzioneranno con i rumori e con la voce che il microfono percepirà o potremmo utilizzarlo anche con la musica quindi loro andranno a ritmo di musica le possibilità ovviamente qua sono infinite per quanto riguarda le funzioni automatiche quindi la possibilità di sfumare di colore la possibilità di dare un tempo alla sfumatura di colore quindi se la sfumatura è troppo veloce potremmo andare a regolare con lo slide nell'applicazione che la velocità sia bassi quindi sia ancora più lento la sfumatura ma c'è davvero da impazzire per quanto riguarda le possibilità per quanto riguarda le possibilità di colore e di diciamo intrattenimento per quanto riguarda queste luci della line le con alimentazione loro ovviamente sono ip68 hanno un alimentatore come vedete tutto sigillato tutto impermeabile perché come abbiamo appunto detto un attimo fa essendo ip68 è totalmente impermeabile dalla parte dell'alimentatore abbiamo una presa asciuco per essere collegate alla presa di corrente mentre per quanto riguarda i cavi sono lunghi 8 metri quindi abbiamo davvero la possibilità di arrivare un po dappertutto per quanto riguarda il collegamento della presa di corrente quindi detto tutto questo è arrivato il momento di installarle come abbiamo detto il concetto di fissaggio rimane lo stesso quindi basterà andare ed inserire la nostra lampada decidere dove posizionarla e andare a mettere poi la piastra magnetica per andare a fissarla ok una l'abbiamo già messa adesso ci spostiamo prendiamo l'altra e andiamo a collegare quello che è la seconda lampada vado ad immergerla seleziono quello che è più o meno la posizione in cui l'ho messa dall'altra parte però ovviamente calcolandola da questa vado a mettere la piastra magnetica ed ecco che ho già installato anche la seconda lampada adesso basta andare a sistemare i cavi e abbiamo già finito il lavoro di installazione anche di queste lampade perfetto anche l'installazione della versione l'almer ad alimentazione l'abbiamo finito avete visto semplicissimo dovete solo dare una sistemata ai cavi dell'alimentazione per farli passare in maniera diciamo ordinata però poi per quanto riguarda l'installazione è davvero semplice ovviamente quelle a batteria hanno un passaggio in meno cioè andare a mettere bene i cavi e poi non devono avere una presa vicino però qua parliamo comunque di otto metri di cavo che ovviamente ci dà la possibilità di arrivare un po dappertutto infatti adesso vi faccio vedere dove io l'ho fatto arrivare e la presa di corrente è arrivata qua con la sua presa asciugo la vado ad inserire nella sua presa ed ecco qua che ho installato e finito l'installazione di quello che sono le lampade l'almer ad alimentazione quindi adesso all'interno della piscina ho tutte quattro le lampade due a batteria e due ad alimentazione come vi ho detto esistono anche le confezioni con una lampada sola per entrambe le versioni quindi c'è tanta possibilità di scelta però come vedete adesso c'è un sole davvero forte quindi è inutile che ve le faccia vedere adesso perché comunque si si vedrebbero accese ma ovviamente l'effetto sarebbe veramente triste quindi non ci resta che aspettare che diventi buio finalmente ci siamo è diventato buio adesso posso farvi vedere realmente cosa sono in grado di fare e che luce sono in grado di darci all'interno della piscina queste lampade della limelay inizieremo da quella batterie poi passeremo a quelle alimentate a corrente farò le riprese anche dall'alto con il drone così da farvi vedere ancora meglio la differenza fra le due luci che come sapete come vi ho detto all'inizio video sono due diciamo tipologie di luci completamente diverse sia per prestazioni che come utilizzo perché appunto una le batterie l'altra no ma anche proprio come watt di potenza però giusto per farvi capire e farvi rendere conto magari cosa uno ha bisogno realmente nella propria piscina per dimensioni e tipologia di piscina che ha a casa sua allora con il suo telecomandino potremmo andare a regolare e andare a modificare tutte le impostazioni abbiamo i vari colori possibili abbiamo la possibilità anche di andare a creare un effetto di sfumatura avere un cambio netto di colore che continueranno a girare andare anche a regolare la luminosità che vogliamo delle nostre lampade a batteria quindi adesso non resta che azionarle eccole qua loro le vedete adesso in colore blu posso andare a selezionare con il tastino sempre colorato rosso o andare a farli verdi viola ci sono tutti i colori che più ovviamente ci aggradano all'interno della nostra piscina e guardate che bellissimi effetti e risultati che possiamo ottenere poi abbiamo la possibilità come abbiamo detto poco fa di andare a creare un effetto sfumatura che è questo quindi i colori sfumeranno da uno all'altro lentamente creando un effetto davvero molto piacevole e un'atmosfera davvero davvero affascinante per la nostra piscina poi abbiamo anche una modalità flash che ci dà un cambio di colori rapido quindi non sono più sfumati ma con un cambio molto più rapido poi abbiamo una funzione smooth che è questa dove abbiamo anche qua una dissolvenza delicata di quello che è proprio il cambio di colore fa proprio vedete come sfumano è in maniera super delicata e poi se io vado a selezionare un colore fisso posso andare ad abbassare la luminosità vedete e posso andare a rialzare la luminosità portandola alla massima potenza quindi 4 watt e di ogni lampada perché sono 4 watt luna quindi 8 watt totali questo è quello che sono in grado di fare queste lampade e poi abbiamo questi tre tasti qua sotto che permettono di andare a dare un timer di spegnimento alle lampade quindi cliccando questo dopo due ore si spegneranno cliccando questo si spegneranno dopo quattro ore cliccando questo si spegneranno dopo sei ore quindi questo è tutto quello che sono in grado di darci queste lampade a batteria quindi adesso le vado a spegnere andiamo ad accendere quello che sono invece la versione con la presa di corrente ho preso il mio smartphone con l'applicazione dedicata come vi ho fatto vedere a inizio video quindi basterà andare a cliccare il tastino qua dell'accensione delle lampade e voilà le lampade sono accese vedete come queste sono ovviamente sono molto più potenti perché qua parliamo di 20 watt a lampada contro invece i 4 di ogni labbra qua abbiamo un totale di 40 watt contro gli 8 delle altre due lampade quindi sono due prodotti completamente diversi per due utilizzi diversi per piscine diverse quindi questo è quello che è in grado di fare a livello di potenza massima e poi qua abbiamo un menù anche un po più completo per quanto riguarda le regolazioni e possibilità di giocare con i colori quindi adesso vado a provare a cambiare qualche colore giusto per farvi capire è cosa sono in grado di fare perché vedete come ragazzi è uno spettacolo poi con il bluetooth ovviamente comunica davvero tutto benissimo anche questo telecomando e avete visto che io cambiavo da qua sono abbastanza lontano dalla piscina le lampade da me in questo momento saranno più o meno quella batteria a circa un cinque metri circa quindi telecomandino comunque prendeva bene qua invece bluetooth con ovviamente poi il ricevitore bluetooth e che nell'alimentatore rimane ancora più diciamo preciso il collegamento posso andare a regolare come abbiamo visto la luminosità vedete posso regolarla in base a quello che voglio a livello di atmosfera e soprattutto in base magari anche le dimensioni della piscina posso andare ad utilizzare anche quello che il cerchio di colore quindi posso andare a modificare il tipo proprio di ogni colore quindi se vado in questo cerchio adesso modificherò solo il giallo se le faccio rosse posso andare a modificare del cerchio colorato e andare a selezionare tutti i colori ragazzi veramente una scelta pazzesca quella che abbiamo disponibile vedete all'interno della nostra gamma di colori una cosa esagerata a questo punto posso andare ad attivare anche qua diciamo degli effetti automatici quindi andando a cliccare sotto con il simbolo con i quattro quadretti vedete posso scorrere all'interno di un menu dove posso andare a creare qualsiasi effetto questo è strobo giallo quindi capite che l'effetto è pazzesco strobo blu strobo verde o posso andare a selezionare questo sfumatura tra due colori rosso e blu o sfumatura tra rosso e verde o andare a fare una sfumatura di bianco dove ovviamente c'è questo passaggio tra bianco e bianco o posso andare a selezionare quello che sono il cambio di sette colori qua molto flashati o c'è anche la possibilità di sette colori sfumati adesso lo vado a trovare questo dove sfumeranno sette colori ma dove posso andare anche a modificare la velocità di sfumatura quindi se questa sfumatura dovesse essere troppo veloce per il nostro gusto posso andare a modificarla e adesso vedete che andando a regolare lo slide le sfumature sono molto molto più lente posso andare a fare ancora più lente quindi sfumano ancora con più dolcezza anche dove la possibilità di fare il cambio di barlumi di sette colori anche qua ovviamente vedete che questo flash lo posso andare a modificare sempre con la velocità quindi un cambio secco non sfumato ma che ci dà la possibilità di regolare la velocità anche di questo movimento poi abbiamo la possibilità microfono che se io lo vado ad attivare adesso proverò a stare zitto vedrete che le luci staranno ferme mentre se parlo il microfono del telefono andrà al ritmo di quello che è la mia voce portando appunto le luci al ritmo di quello che io sto dicendo poi abbiamo anche una possibilità di musica dove saranno a ritmo di musica quindi se io vado a far partire una canzone in questo momento le luci andranno al ritmo della musica che sto trasmettendo ok credo di avervi fatto vedere di avervi fatto vedere la differenza fra i due tipi di lampade però appunto che questo mio video vi sia servito per andare a capire quale tipo di lampada è meglio per diciamo la vostra piscina per il vostro utilizzo se è così l'avete trovato utile ed interessante questo video per aiutarvi in tutto questo lasciatemi un grosso pollice su vi invito a seguirmi anche sul mio profilo instagram dove porto tantissimi contenuti spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale tantissime cose interessanti arrivano anche lì e sempre si va ragazzi iscrivete al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dopo tantissimi coupon sconto riguardanti i droni tutta la tecnologia in generale ma soprattutto iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione come questa un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video